Buonasera e bentornati in diretta per la seconda puntata di Primo Cittadino dopo il lockdown, ospite di questa sera al sindaco di Senegallia Maurizio Mangialardi. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. I numeri per intervenire in diretta è lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio su whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco, l'ultima puntata che è andata in onda appunto prima del blocco totale è stata proprio con lei, a tre mesi di distanza tante cose sono cambiate, è cambiato il mondo, lei innanzitutto come sta? Ma bene, è stata molto faticosa per me, per tutti, penso a tutti gli operatori, penso a me, alle persone che non ci sono più e loro familiari, quindi è stata veramente complicata, però eravamo qui, stavamo pensando ad altre cose e poi improvvisamente il mondo ci è cambiato in maniera inaspettata. Le Marche oggi per fortuna registrano zero contagi e zero decessi, si aspettava da tanto tempo questa notizia, quindi importante. Come crede che sia stata gestita l'emergenza sanitaria a livello regionale? Molto bene, molto bene, ve lo dico per elementi, non solo per il percepito, perché siamo stati quelli che hanno intuito che il problema era enorme, non abbiamo fatto fare alcune manifestazioni importanti, quando abbiamo capito che non era Codogno, non era la Lombardia, non era il Veneto, ma questo si diffondeva esattamente come l'influenza e se questo accade, ahimè, sarebbe arrivato dappertutto e arrivato anche da noi. Quindi da lì la chiusura delle scuole, adesso lasciando stare anche il braccio di ferro con il governo, ma la gestione sanitaria, la gestione sanitaria quanto mai precisa e pianificata. Io ho avuto un ospedale che è diventato Covid nell'arco di 24 ore, dove gli infermieri, i medici hanno spostato gli armadietti, hanno trasformato 20 posti letto per la medicina, l'hanno fatta diventare 110 posti solo per coviderie. Questo è successo però anche a Iesi, è successo ovviamente a Pisaro, è successo a Camerino, in tutta la regione. Da lì una grande attenzione e anche un qualche momento di completa paura, di panico, perché non capivamo, o meglio, anche stessi operatori non stavano capendo che cosa stava accadendo, per esempio, nell'area vasta 1 di Pesaro e tutta la provincia. E quindi arrivavano tutti i malati da noi e qualcuno diceva, ma perché non li prendono loro? Invece dopo, quando il focus si è allontanato, abbiamo capito che, o meglio, abbiamo capito tutti cosa stava realmente accadendo. Quindi da lì, poi i tamponi fatti per tempo, i DDT e poi l'USCA, tutta la medicina del territorio fortemente potenziata e anche la sfida di arrivare a quell'R0 che in questi giorni è esattamente come l'avevamo dichiarata. Avrà sentito le parole di Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano. Ha detto, il virus clinicamente non esiste più, sono stati sbagliati messaggi anche fuorvianti. Addirittura c'è chi ha terrorizzato il paese, ha dichiarato. Lei come commenta queste affermazioni? Vedete, mi vengono in mente tutte le bare che ho visto e mi vengono in mente i morti della Lombardia. Almeno il rispetto per loro. È un medico, vedete, non sbagliano solo i politici. Qualche volta anche chi ha dei ruoli dovrebbe pensarci bene. Io non metto in discussione la professionalità, ma quando dicono queste cose e penso ai camion militari pieni di bare senza nome, penso che il professore stia veramente sbagliando. Le chiedono che cosa ne pensa del fatto che chi aveva prenotato da tempo gli esami cadenti in date sotto il lockdown ora è tutto annullato ed è costretto a rifare le file, quindi per le impegnative, ore di attesa al CUP e prenotare poi magari tra tre anni. Io penso che ci sarà un'accelerazione e una riorganizzazione importante. Devo dire, dobbiamo avere un attimo di pazienza, ma vedrete anche nei prossimi giorni metodiche e modalità che porteranno ad accelerare questo percorso perché ovviamente... I ritardi forse sono stati inevitabili in questo caso perché sono stati annullati... Tre mesi dove, come dicevo prima, gli ospedali sono stati trasformati, quindi è stato annullato tutto, anche se, ci tengo a dirlo questo, da questa regione non è uscito un solo malato per qualsiasi altra patologia in giro per l'Italia. Questo penso che dimostra anche della potenzialità del nostro sistema sanitario regionale. L'emergenza Covid-19 ha cambiato un po' anche le carte in tavola perché ha aumentato il gradimento sull'operato di Luca Ceriscioli. C'è chi crede che Ceriscioli debba ricandidarsi e quindi ritentare a tornare governatore per i prossimi cinque anni. Oggi pomeriggio alle ore 18, se non sbaglio, c'è stata una riunione importante del centro-sinistra perché è stato deciso se ratificare oppure no la sua candidatura. Che cosa è emerso? Beh, intanto che il centro-sinistra non ha mai l'uomo solo al comando. Siamo una squadra e dentro quella squadra abbiamo deciso un percorso con l'aiuto, il sostegno e anche la decisione di Luca Ceriscioli. Quindi le decisioni sono state prese insieme valutando non solo, come si dice, la sintesi dentro i partiti perché quella forse è importante ma non è determinante, ma la possibilità di continuare un progetto e insieme anche migliorarlo. Lei proprio ieri è stato a pranzo con Ceriscioli, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito. Avete condiviso appunto le linee guida per le prossime elezioni? Beh, con il Presidente in questi 90 giorni praticamente siamo stati sempre insieme. Abbiamo condiviso sì le scelte fatte, le scelte anche quelle pesanti, quelle dei protocolli che hanno permesso di dare respiro ai nostri imprenditori. Abbiamo scelto insieme anche le risorse che verranno messe a disposizione di famiglie e imprese nel prossimo periodo. Abbiamo parlato tutto tranne che delle elezioni perché siamo insieme e lo siamo adesso, lo saremo anche dopo perché, ripeto, l'importante è essere una squadra e lavorare insieme per il bene di questa regione. A giorni si avrà l'ufficialità? L'ufficialità è già nelle cose, adesso c'è un po' di dibattito politico che è legato alla ripresa, riprendiamo anche lì. Io per 82 giorni mi sono solo occupato solo esclusivamente di Covid, non ho parlato di nient'altro. Oggi, grazie al lavoro di tutti, stiamo entrando, forse le Marche, addirittura in una fase 3, riprendiamo a mettere in fila le cose per farci trovare pronti per il passaggio elettorale che ormai penso che sia deciso nella data di una domenica di settembre, quindi lavoriamo per questo. Pensa magari di dare un assessorato a Ceriscioli, si sa se si ricandiderà? Noi lavoriamo, non pensiamo alle poltrone, pensiamo al progetto con la coalizione che si sta componendo e che avrà la sua piena completezza nella prossima settimana, però pensiamo a quello. Poi abbiamo bisogno di tanti, abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo vincere, possiamo vincere e ci stiamo impegnando in questo modo. Intanto contro il Covid, speriamo di vincere, questa sicuramente è la strada giusta. Anche il Comune di Senigallia è stato sorteggiato dal Ministero della Sanità e dall'Istat per l'indagine sierologica che la Croce Rossa italiana sta effettuando a livello nazionale, quindi anche questo è un dato positivo. Siamo contenti di partecipare, che i nostri concittadini possano dare il contributo. Vedete, dicevo, l'ho riutilizzato tante volte in questo periodo, che per esempio l'ospedale di Senigallia, come gli altri, abbiano contribuito a sconfiggere il Covid, anche sconvolgendo la modalità. È un momento di orgoglio per tutti, perché poi adesso vediamo che sta un po' mollando la presa e quindi se possiamo fare anche il sierologico massivo e mettere a disposizione e avere una mappatura più precisa, questo aiuta, aiuta la scienza e la scienza deve avere sempre la priorità in questo caso in una situazione così complicata. A proposito di mappature di persone a rischio di contatti, abbiamo parlato poco fa nel nostro telegiornale Occhia alla Notizia anche della Pimuni, che cosa ne pensa? Penso che come Regione, come Anci, faremo il possibile per renderla più efficace possibile. Questo è certo, perché è una modalità che ci consente, come è stato per i tamponi e poi lo stato per il sierologico, tutto il lavoro che è stato fatto, Immuni ci consente di avere la rapidità e l'immediatezza e quindi lo dobbiamo sostenere. Io inviterò, anzi lo faccio subito, invito i nostri concittadini a scaricarla, ce l'abbiamo nei nostri cellulari e ci dobbiamo preoccupare poco del tema della tracciabilità e delle paure che qualche volta poi ci vengono inculcate e pensiamo più all'efficacia di quel sistema per aiutare a sconfiggere questa terribile pandemia. Lo avrà sentito fino domani, domani compreso, da Gabice fino a Marotta, Marotta Mondolfo, i ragazzi e anche i non, nella Movida dovranno tenere le mascherine e logicamente dovranno tenere anche la distanza interpersonale, quindi dovranno essere evitati assembramenti. A Senigallia qual è la situazione? Ma io, ovviamente stiamo dentro i protocolli, il protocollo dice che dobbiamo stare a distanza, che dobbiamo detergerci le mani di continuo, di fatto, e avere poche precauzioni ma importanti. La mascherina serve ma non è determinante, tra stare a 50 centimetri e la mascherina stare un metro e farlo sempre, ovviamente preferisco il metro, quindi noi continuiamo a sostenere questa cosa e se poi ci sono situazioni particolari come quelle che si sono determinate, c'è la necessità di imporla, ovviamente ci ragioneremo. Anche la polizia locale, i vigili urbani stanno controllando? Sì, c'è un bel lavoro delle forze dell'ordine tutte, è molto complicata perché non si tratta solo di un controllo della sosta che è facile o della velocità, lì si tratta del rapporto, la distanza tra persone, quindi dobbiamo stare molto attenti negli assembramenti e non mollare la presa perché poi passano messaggi sbagliati come quello del professore e può diventare veramente pericoloso. Pochi giorni fa ha firmato anche un'ordinanza con tutte le norme e le regole da rispettare per andare in spiagge, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Ci sono state anche un po' di polemiche per quanto riguarda gli orari, l'apertura, la chiusura, vogliamo ricordare anche le principali? Abbiamo fatto lì come Anci un grandissimo lavoro insieme alla regione per rendere possibili le indicazioni che arrivavano dall'Istituto Superiore di Sanità e con le linee guide dell'INAIL perché erano molto complicate da gestire, ma ovvio avevano una caratteristica di essere di carattere generale, poi le abbiamo calate nella nostra regione, adesso se uno arriva in spiaggia, lo devo dire, e guarda i nostri stabilimenti, sembrano più ordinati dello scorso anno, sono più rarefatte gli ombrelloni, l'esdraio, quindi forse alla fine in questa situazione molto complicata che doveva essere, comunque esteticamente sembra addirittura migliore. E i giochi per i bambini si possono utilizzare? Si possono utilizzare, sì, la partita lì è molto complicata perché è vero che ci sono, che si possono adoperare, però i percorsi di sanificazione non possono essere garantiti rispetto all'utilizzo che ne fa il bambino, quindi ci vuole tanta accortezza dei genitori su questo. Ecco, diciamo appunto anche degli orari, ci sono state, diciamo, delle polemiche per quanto riguarda questa apertura o la chiusura? Sì, ci sono state un po' di polemiche anche, soprattutto nella mia città, perché abbiamo consentito gli operatori di spiaggia di tenere aperto solo il sabato, il venerdì e il sabato fino alle ore 24. Qualcuno degli altri imprenditori si era un po' agitato, ma deve sapere che, per esempio, a Pesaro, a Marotta, a Falconara, a San Benedetto stanno aperto fino alle 24 tutti i giorni. Quindi la mia ordinanza è stata in restrizione tenendo conto un po' di tutto, quindi l'abbiamo fatta con questa impostazione. Da domani si può tornare anche nelle spiagge libere? Sì, sperando che il tempo sia buono, sì, finalmente. E quali saranno le regole da rispettare? Molto semplici. Io sono convinto che nella semplicità, rispetto della semplicità, sia più facile applicare la regola e verificare con i controlli. le distanze di 5 metri tra ombrellone, 2 metri tra l'esdraio, lettini o asciugamani. E quindi così si accede liberamente in spiaggia e è facile anche controllare, perché poi se uno ha messo l'ombrellone a una distanza inferiore, ahimè, lo si invita a riposizionarlo se dovesse essere... Ci saranno anche dei gazebo per posizionare poi eventualmente le attrezzature? Noi le abbiamo tolte, noi le avevamo, siamo stati primi a organizzare queste strutture, ma non si può garantire la sanificazione dello stoccaggio degli ombrelloni e dello sdraio. Quindi il pubblico non lo può fare, ma nessuno può sanificare un oggetto di un privato, quindi diventa un po' periglioso sul piano normativo, quindi per quest'anno è straordinario, ci dobbiamo adattare anche con gli ombrelloni e l'esdraio proprie. Sarà vietato comunque andare in spiaggia libera da mezzanotte alle 6 del mattino? Sì, per il momento sì, non vorrei fare operazioni di restrizione, devo dire che in alcuni giorni potrebbe essere anche un po' complicato da gestire, però per il momento da mezzanotte alle 6. Per aiutare invece le attività, le imprese, che cosa avete messo in campo? Ad esempio la COSAP, giusto? Il canone per gli spazi, le aree pubbliche? Noi abbiamo fatto tutto il possibile, quello che era possibile nelle corde dei... Parlo di me, ma parlo in questo caso da Presidente Anci, perché l'hanno fatto tutti i comuni anticipatamente, anche rispetto ai provvedimenti del governo. Intanto abbiamo rinviato tutti i pagamenti, tutti, dalla COSAP, TOSAP, per chi ha una norma o l'altra, al pagamento dell'Atari, le imposte di pubblicità, tutto quello che atteneva, gli affitti, tutto quello che atteneva al comune, l'abbiamo rinviato. Poi abbiamo iniziato a fare provvedimenti un po' più strutturati, devo dire, e lo dico qui con un po' di soddisfazione, che il provvedimento del governo rispetto all'occupazione solo pubblico, diciamo così che si capisce meglio, è partita proprio da noi, proprio dalla necessità di dire, noi le sentiamo, però tu governo restituisci i soldi, perché comunque noi lo facciamo, perché è un modo vero, rapido, immediato, per sostenere le nostre attività, ma non solo, abbiamo concesso lo spazio e ne abbiamo concesso sempre di più per consentire di essere più rarefatti nella distribuzione dei tavolini o delle sedie. Andiamo di nuovo a leggere qualche messaggio che ci arriva da casa. La situazione a Borgoferrete è rimasta la solita, con l'isola ecologica presa di miera, come se fosse una discarica. È arrivata anche la lettera dicembre di porta a porta, ma ancora nulla, ci può dare delle informazioni? Ma vedete, io continuo a... Quella è un'isola ecologica che non è del pubblico, è del privato, sono i privati. Se non la tengono bene, fan bene, gli facciamo anche le sanzioni, se no togliamo tutto e passiamo al porta a porta normale e non abbiamo più quel tipo di servizio, perché è vero, ma bisogna che chi conferisce lì lo garantisca anche la buona conduzione. Andiamo avanti, ho sentito che c'è un progetto per l'arretramento della ferrovia nel Senigallese, dove passerà? Ma quella, diciamo così, è stata una visione che il ministro Franceschini ha avuto e rispetto alla quale ho aderito immediatamente, anzi abbiamo aderito come comuni marchigiani, perché per la prima volta ragioniamo con il turismo, le infrastrutture insieme. Oggi eravamo sul Corriere della Sera io e Matteo Ricci, perché abbiamo espresso la stessa condivisione sul progetto. Poi ovviamente se dovessi pensare a un'infrastruttura pedociclabile che viene realizzata al posto della ferrovia, io penso che quella potrebbe avere un valore unico, sarebbe una trans-europea incredibile e poi ovviamente bisogna ragionare dove far passare tutto il resto, perché poi bisogna ragionare sull'autostrada, bisogna ragionare sulla ferrovia, ma ovvio occorre un progetto di grandissimo respiro. A sto sindaco gli seppò di tutto, esattamente così, gli si può dire tutto, ma che non ha fatto di tutto per rendere bellissima Senigallia, questo proprio no. E c'è pure riuscito, quindi è un complimento nei suoi confronti. Mi fa molto piacere, mi va bene anche se si può dire di tutto e quindi va bene anche tutto il resto. Le chiedono però se può dire qualcosa sui disoccupati, quindi le varie prospettive e opportunità lavorative, visto il momento di crisi. È un problema, adesso siamo in una fase terribile. Terribile. Io, guardate, quando penso agli appelli che fanno anche, senza problemi, perché siamo in Italia, domani è la festa della Repubblica, quindi ci viene anche bene, del sovranista che vuol difendere i nostri perimetri e poi l'appello vero per salvare il nostro futuro deve passare attraverso l'Europa. Io penso che in un momento così importante l'Europa forse per la prima volta sta dando un segno che non è solo semplicemente quello economico ma è quello sociale. Perché se ci dovessero essere i 37 miliardi del MES e poi ragioniamo, per la sanità e quindi una riprogettazione del sistema sanitario, il potenziamento che abbiamo bisogno e che è stato evidenziato in grande parte in questa nazione e che ha bisogno di essere ricalibrato e dall'altra invece un sistema di 170 miliardi per la ripresa economica, ma la ripresa economica vuol dire poi ripresa occupazionale, perché non è sostegno, è occupazione. Il primo tema, soldi per far ripartire le aziende e per dare occupazione. Le ricordano del tombino di raccolta delle acque piovane con frannosità ai lati in via Corinaldese? Aveva detto che avrebbe provveduto. Io ho due temi, questo è vent'anni, quindi lo sappiamo. Conosce bene la questione. Per la Corinaldese c'è un progetto? C'è il progetto dell'asfaltatura? Beh, adesso stiamo riprendendo con tanti interventi. L'ultima volta qui mi ero dato un limite temporale non mi ero preso nemmeno un impegno perché stavo chiudendo il bandato. Questa proroga abbiamo asfaltato la statale, l'ex statale per un bel tratto, siamo intervenuti a Marzocca, stiamo facendo lo stradone Misa che rifacciamo una gran parte della zona dei fiumi, quindi la Corinaldese però deve essere oggetto senza dubbio di un intervento. e forse lo possiamo anche incardinare nel prossimo bilancio. I parcheggi lungo la spiaggia solo a pagamento, a Senigallia perché va in campeggio è anche una grossa cifra, ci sono dei pagamenti più a portata di tutti, a portata di mano, perché da oggi sul lungomare anche a Senigallia parte questa sosta, gli hanno chiesto anche le varie associazioni di categoria di rimandarla al 2021, questo pagamento, in realtà non è così. Che cosa risponde al nostro telespettatore? Intanto magari tutti potessero venire in camper quest'anno, abbiamo delle aree, poi troviamo avuto anche un finanziamento per realizzarla un'altra, non solo quella del Cernin, sul lungomare ci siamo dimenticati che è stato anche oggetto di diverse domande in uno degli incontri nostri presso la vostra televisione, abbiamo realizzato una pista ciclata meravigliosa, ma non solo, abbiamo anche sistemato un tratto che era quello del Cernin abbastanza in degrado o meglio molto desueto. Oggi abbiamo la pista ciclavia, abbiamo i parcheggi, abbiamo recuperato i campeggi che erano privati, li abbiamo smaltellati e sistemati, penso che il prossimo anno riusciremo a dare risposte anche rispetto a quel tema. Qual è il ruolo del turismo ricettivo secondo Mangialardi a Senigallia e nelle Marche? che le chiedono, bella domanda. Beh, no, una grande domanda. Intanto anche da voi è stata confermata la bandiera blu, quindi Sventola. Sì, abbiamo 15 bandiere blu nella costa, noi ne abbiamo prese due, ovvio che è un momento di grande soddisfazione, no? Ci accorgiamo sempre come in tutte le cose, il Covid ci ha insegnato che le cose belle sono quelle che normalmente abbiamo sotto mano e che solo quando ci vengono private, questa è la bandiera blu, uguale, ci abbiamo lavorato tanto, ci lavoriamo tutti i giorni come comuni e portano dei grandi risultati. Il turismo diventerà il volano principale di questa regione inevitabilmente e abbiamo tutte le condizioni per fare benissimo. Guardate adesso, c'è la necessità di allargare perché abbiamo bisogno di spazio e la nostra regione è uno spazio tutto meraviglioso. quindi non c'è solo la costa ma abbiamo le colline e abbiamo tutta la parte pedemontana fantastica, un grande lavoro lo dobbiamo fare nella ricostruzione rapida e spero che ci siano provvedimenti dal governo in questa direzione nella parte del terremoto perché quello è un altro grande tema però la regione ha un grande futuro se poi si dovesse agganciare qualche finanziamento come ha detto Franceschini per ripensare le infrastrutture e arrivare meglio in questa regione ovviamente tante cose potrebbero cambiare. Dal turismo torniamo un attimo a parlare di sanità perché le chiedono se sarà eletto presidente della regione sugli ospedali chiusi la penserà come Ceriscioli? Beh io sul sul piano sanitario penso che quello che abbiamo votato che hanno votato in consiglio regionale dia tante indicazioni ci siamo resi conto che non abbiamo bisogno di ospedali che corrono dietro a un'unità operativa complessa o un'altra ma abbiamo bisogno più di medicina del territorio e quando gli ospedali ci sono non devono non devono mai far avere carenze nel personale questo è un grande elemento e quindi non possiamo quello che c'è deve funzionare al meglio quindi non possiamo rincorrere dietro le carenze degli infermieri dell'os del medico del primario che manca perché questa è l'unica cosa che non ci possiamo permettere poi sulla ridistribuzione invece territoriale si può fare un lavoro con la medicina del territorio appunto la strada che va dal mamma mia alla rotatoria della complanare sarà sistemata? dal mamma mia quindi è via via Fiorini via Fiorini sì adesso è in condizioni buone se dovrà essere rifatta la Corinaldese ha sicuramente priorità ci dicono non so se sia vero ci sono zone dove sotto gli occhi dei vigili parcheggiano sistematicamente in maniera selvaggia ed è diventata la norma quindi suppongo chiedono anche più controlli in questo senso ci chiedono tante informazioni per quanto riguarda gli eventi ma li affronteremo tra poco perché andiamo un attimo in pubblicità torneremo poi a parlare di mercato appunto di eventi di pista ciclabile ponte 2 giugno insomma tante cose ancora da affrontare con lei a fra poco e siamo di nuovo in diretta con il sindaco Maurizio Mangiolardi intanto le fanno i complimenti per la complanare perché è stata determinante dicono per diminuire il caos del traffico a Senigallia prima ha parlato anche della ciclovia adriatica Fano Marotta a Senigallia io ho trovato un video sul web e vorrei farlo vedere se è lei che i nostri telespettatori a Senigallia Senigallia in bicicletta in cinque minuti noi li facciamo vedere tutti magari li facciamo scorrere nelle immagini mentre insieme a lei commentiamo insomma questo video è davvero delle belle immagini abbiamo visto quello che c'era scritto ovvero tanti anni fa la situazione non era di certo questa a Senigallia che è diventata una città sostenibile che promuove appunto la bicicletta e le due ruote vedete per fare per fare quelle scelte ci vuole coraggio bisogna essere veramente decisi il primo tratto lo feci come quando ero assessore nel 2001 e non mi fecero uscire di casa per una quindicina di giorni perché avevamo sul lungomare Marconi il doppio senso parcheggio destra manca avrei rovinato il turismo della parte centrale ecco oggi siamo Senigallia ecco questo era proprio il primo tratto che facciamo allora adesso stiamo facendo una cosa molto bella perché è strutturata è un intervento che non riguarda solo noi ma come dicevamo interessa anche il comune di Mondolfo quello di Fano quello di Pesaro perché poi il collegamento e sarà una cosa fantastica faremo il ponte tra tra Mondolfo e quindi tra Marotta e Senigallia e avremo una cosa incredibile e quindi dovremmo andare avanti con questa direzione senza senza paura e senza paura di metterci in discussione questo è certo ecco visto il centro storico è ripartito anche il mercato vero? sì molto molto bello molto ordinato anche un po' di come dire un po' di timore senza dubbio c'è il senso unico nel mercato crea anche qualche piccolo problema però questione di abitudini magari anche lì abbiamo fatto una lotta importante con l'esenzione del pagamento del suolo pubblico per gli ambulanti questa è stata una scelta proprio mia con il rischio di incappare nella corte dei conti però avevamo bisogno di dare un segno agli ambulanti che hanno sofferto in modo particolare in questi tre mesi torniamo un attimo a parlare della nuova pista ciclabile che è stata aperta da poco nella lungomare era quella che abbiamo visto quello splendore che abbiamo visto prima perché insomma ci sono state anche qui alcune polemiche perché perché c'è stato un cambio di viabilità e quindi i conducenti che devono fare una strada per la quale non erano abituati forse anche qui si tratta di abitudine sindaco ma io vedete lì il dibattito è stato un po' lungo perché qualcuno sosteneva che potessimo potevamo fare sia la pista ciclabile che il doppio senso oggi la norma non lo consente non ci consente questa cosa e quindi se si fa la pista ciclabile si deve fare il senso unico e abbiamo scelto di dare la risposta alla residenza e ai operatori con i parcheggi ne abbiamo trovati tanti tanto bello ordine se passate quell'immagine lì leggeva solo un pezzo tra l'altro ancora a cantiere aperto ma oggi fate quel tratto tutto ordinato tutto preciso sì purtroppo mi spiace tanto per i residenti perché qualche chilometro quindi c'è un senso unico un senso unico a uscire quindi verso sud e quindi il residente del Cernin per andare in farmacia o a scuola deve fare il giro oppure prendere la bicicletta che forse è la soluzione migliore in questo caso che in questo momento visto anche tutto il sostegno che si sta facendo alla mobilità ciclabile il governo e i governi mondiali stanno mettendo risorse per realizzare piste ciclabili e per dare soldi per chi compra biciclette la dice lunga su quale sarà la direzione del prossimo periodo le segnalano intanto Vianita Garibaldi che dicono sia veramente impercorribile condivido e poi i ponti in fondo al corso tra Marina Vecchia e Marina Nuova no questo non è in fondo al corso ah i ponti uno quello in fondo al corso quindi il ponte 2 giugno e e quelli sì entrambi esatto beh uno in appalto abbiamo già giudicato i lavori con demolizione che è stata rinviata la regione sta facendo questo abbiamo rinviato la demolizione penso che ci sarà la consegna dei lavori nei prossimi giorni formalmente l'altro l'altro è già progettato occorrono le risorse sono un po' bloccate dal governo vedremo di di lavorarci per il prossimo periodo perché la passerella oggi non è assolutamente sostenibile anche sul piano della sicurezza del covid perché dovremmo introdurre un senso unico alternato perché anche a piedi sulla passerella ci si incrocia e non va bene sono tanti anche coloro che stanno contattando il nostro numero fisso per chiedere informazioni le chiedo intanto per le seconde abitazioni si è previsto il pagamento del limu oppure anche qui ha fatto qualcosa detto no quindi questo è rimasto l'imu non dipende da noi e quindi l'imu non può essere toccata penso che il governo deve lavorare sulla Tari e su l'imu per gli alberghi quello sì è previsto è previsto invece un cinema all'aperto ma c'è una proposta vediamo ce ne sono due ci sono due società che lavorano molto bene una in modo particolare il Gabbiano ci aveva proposto anche esperienze che abbiamo fatto anche in passato e può darsi che riusciamo ad incardinarla territorio anche sempre più smart perché proprio da questo mese verranno installati dei nuovi contatori di distribuzione quindi anche questo progetto insomma prenderà il via a giorni sì sono stato alla presentazione la settimana scorsa penso un bel servizio per il cittadino e distribuzione cambia tutti i contatori possono essere gestiti da remoto e poi la ditta che andrà poi a vendere l'energia ci dovrà mettere nella condizione di scegliere la tariffa più adeguata il contratto più adeguato alle nostre esigenze uscita a complanare in via capanna le chiedono questa stavo sorridendo perché se me l'aveste fatta dieci anni fa quando il comitato raccolse le firme si fece le barricate per non farla l'uscita in via capanna capite che quest'ora l'avrebbe pagata società autostrade come fa adesso qui a Fano con l'altro pezzo delle bretelle noi avevamo inserito anche quella io per non avere non porre elementi di ostacolo alla realizzazione della capanna della complanare tolsi quella cosa perché c'era uno dei soliti comitati tra l'altro quei soliti avvocati sempre quelli e adesso ce la richiedono stiamo lavorando però adesso è a carico delle spese del comune quella volta l'avrebbe pagata società autostrade dentro quel progetto complessivo ci stiamo lavorando tra l'altro i nostri concittadini potranno apprezzare la nuova rotatoria che stiamo realizzando appunto in preparazione di quella bretella e chiedono ancora sul turismo considera l'altezza della situazione gli attuali operatori sì sì c'è una generazione nuova che è molto capace nell'ambito adesso lo faccio senza pensare come dire proprio a casa perché abbiamo due chef stellati nella stessa città che non ha nessuno e quelli sono operatori turistici veri c'è un settore tutto quel settore dell'enogastronomia che funziona molto bene ci sono tanti operatori di grandissima capacità ci sono strutture alberghiere che spero che possano trovare sostegni per migliorare la loro offerta perché abbiamo bisogno anche di quello la strada che congiunge Senigallia a Roncitelli sarà sistemata? ci sono tre frane? no no abbiamo chiesto un finanziamento alla regione spero che possa arrivare al più presto perché sono circa un milione e mezzo di euro tra tutti i tre interventi avevo già detto che sarebbe stato un intervento che avremmo fatto qualora ci fossero state le risorse non sono arrivate spero che possano arrivare nel prossimo periodo ma adesso c'è un senso unico alternato nemmeno troppo complicato da gestire però mi dicono che Senigallia è comunque bella un bel po' è bella proprio però è bella c'è un progetto per il Politeama Rossini? no non c'è il Politeama è una struttura che è privata tra l'altro lì abbiamo l'abaco dei fallimenti perché lì è fallita la società è fallita la finanziaria è fallita la banca e adesso c'è un curatore fallimentare anzi speriamo che venga avanzata una proposta dove l'amministrazione dovrà prenderla in considerazione per consentire a quel contenitore di essere ripensato non può stare più in quelle condizioni tra l'altro avevo proposto la sovrintendenza di demolirlo almeno temporaneamente poi ricostruirlo perché non può stare in queste condizioni davvero è imbarazzante per la città è imbarazzante anche per il curatore che si vede arrivare le lettere del sindaco ogni dieci giorni per fare gli interventi di manutenzione l'unione marca Senone come può essere più utile per l'economia e il turismo le chiedono la nostra unione molto bene molto bene dobbiamo fare uno scatto in avanti lo dico non aspetterà me perché io l'ho avviata però lì può essere il contenitore ma non solo e può essere la soluzione di tante necessità la soluzione perché può finirci il servizio ragioneria ci possono finire la polizia municipale possiamo diventare veramente un grande comune uno dei il quarto comune della regione Marche se potessimo mettere tutti quei servizi insieme insomma leggere a vedere da tutti questi messaggi i suoi concittadini credono tanto nelle potenzialità di Senigallia nel turismo e nella bellezza della città sono questo sono molto contento vuol dire che siamo riusciti a far crescere un po' la mentalità in positivo essere un po' orgogliosi di quello che siamo non esistono solo i detrattori i fake novisti del web esiste anche tanta gente che lavora lavora e ama la città è vero abbiamo tante cose da fare ma ne abbiamo fatte anche tante tante belle ed è un modello come scelta non ci siamo concentrati sul lungomare che ha bisogno di essere ripensato ma abbiamo un centro storico eccezionale ed è strana per una città di mare di solito si concentra tutto sul lungomare poi abbiamo anche quella abbiamo la rotonda la foto quella un po' vecchia sì dovremmo averne anche un'altra comunque sempre bella è sì infatti è talmente affascinante che uno non si accorge io sono un po' maniacale quindi però abbiamo anche quell'oggetto che è un simbolo del turismo marchigiano ecco questa è ritornata splendida c'è tanto da fare però siamo una città all'altezza di quelle marchigiane più importanti e quindi stiamo bene in rete la ormai famosa rotatoria della penna che crea anche qualche disagio dalla stazione verso sud la proroga del mio mandato forse serve per farmi fare la rotatoria non sto scherzando è un intervento che attiene privati c'è stato un problema di bonifica tanti problemi tra privati poi una volta risolti ci sono stati problemi di bonifica del sottosuolo sembra e dico sembra che stiano risolvendo e quindi forse per settembre siamo in grado almeno di demolire tutto e avviare il tracciato provvisorio della rotatoria che per noi è determinante perché significa anche in prospettiva avere una una circuitazione a rondò intorno alla città che ci può permettere tante belle scelte a proposito di elezioni comunali ci sono novità ci sono delle date sta emergendo qualcosa oppure adesso si pensa alle regionali insomma ma tante le ultime indicazioni sembrano che ci siano l'election day quindi nello stesso giorno voteremo per le regionali a Senigallia a Fermo Macerata voteremo per le comunali e voteremo anche per il referendum quindi una bella scorpacciata di schede che faremo in una data che oggi è ballerina tra il 6 di settembre e il 27 non crede sia un po' presto? ma dipende la democrazia ha le sue necessità siamo tutti più che presto tutti in grande ritardo perché dovremmo votare tutti come oggi io sono stato eletto nella mia città esattamente sono qui esattamente 5 anni fa e quindi come oggi e quindi il tempo è scaduto arrivare fino a settembre dice c'è una proroga di 3 mesi 3-4 cambia poco però il voto è un passaggio democratico che non poca campagna elettorale però in questo senso o meglio ancora anomala campagna elettorale perché ci troviamo dentro c'è chi poi pensa di un nuovo ritorno di contagio luglio agosto che si fa un po' difficoltà vedo poi c'è il limite del covid quindi non potremmo potremmo parlare con le persone nessuno penso che abbia gran voglia di parlarne con lo schermo scacchettato davanti tante cose vedremo la democrazia è fatta anche di momenti il momento nostro è questo non è un altro anche per la Tasi chiedono non ci sono delle agevolazioni per la seconda abitazione ci stiamo lavorando questa è tutta la partita che abbiamo messo in campo con il governo capite oggi ho avuto modo di metterlo a disposizione qualche giorno fa gran parte dei comuni rischiano il default non hanno più le entrate perché ovvio che averle procrastinate vuol dire non avere cassa e nella contabilità del comune quella armonizzata oggi conta la cassa e la competenza io sono stato uno di quei pochi comuni nella nostra regione che hanno votato il bilancio entro il 31 di dicembre dello scorso anno quello di previsione e sono fortunato perché l'abbiamo fatto in quel momento e qui ci sono comuni che non ancora devono votare il bilancio di previsione lavorano per dodicesimi e quindi rischiano che quello che spendono in un mese poi non lo ritrovano quando vanno a realizzare il bilancio quindi la partita sulle esenzioni è molto molto delicata perché è vero possiamo esentare tutto ma poi dopo andiamo in default come comune Cioè ad esempio qualche caso in cui l'inquilino non sta pagando l'affitto a causa del covid a causa anche della perdita di lavoro e d'altra parte non ci sono delle agevolazioni per le proprietà Esatto è un tema è senza dubbio un tema se nei provvedimenti del governo ci vengono restituiti i soldi possiamo anche andare incontro alle esigenze puntuali di chi ha le seconde case Intanto ci dicono che è uscita ufficialmente l'app Immuni e vado a leggere un altro messaggio Sindaco riuscirà a trasferire tutto quanto di buono oggettivamente ha fatto e realizzato nella sua città anche poi negli altri comuni e a livello regionale se verrà eletto c'è una sanità da ripensare ci scrivono da Pergola Questo è molto bello Anche l'hai molto sentito il tema della sanità Anche un bel investimento anche un bel segno di fiducia non ti misurano sui proclami che fai ma sulle cose che hai fatto e questa è una cosa molto bella spero sì spero di poter fare un bel progetto per questa regione partendo dalle cose fatte e provando a migliorarle dove ci sono limiti che sono stati evidenziati Torniamo un attimo a parlare della fase 2 e delle riaperture ad esempio la biblioteca comunale è riaperta sia per quanto riguarda il noleggio che la restituzione dei libri quindi anche lì i cittadini possono tornare gli impianti sportivi invece sì abbiamo riaperto abbiamo riaperto quasi tutto cosa manca? manca un po' la piscina le piscine perché ovvio siamo anche in una fase particolare perché stiamo affidando a un gestore esterno quindi dobbiamo trovare infatti le stanno chiedendo adesso la piscina delle saline se ci stiamo stiamo arrivando anche a questa la partita è molto complicata perché un conto è fare il protocollo poi dopo applicarlo noi dobbiamo garantire la sicurezza chi entra lì dentro chi entra dentro le nostre strutture chi entra dentro il comune deve essere certo di farlo in sicurezza quindi meglio aspettare la sanificazione esatto meglio aspettare un giorno in più adesso abbiamo anche il mare che ci permette di nuotare l'operiamo tutto abbiamo visto prima la rotonda la rotonda mare che è stata aria aperta il teatro la finisce lo stesso e anche appunto i campi da tennis diciamo prima di questi impianti per cui si sta piano piano ritornando alla normalità sì è una normalità transitoria perché non abbiamo quella definitiva ma ancora abbiamo una normalità particolare vedo qualche sorriso e questa è una cosa che mi fa tanto piacere è stato un momento di due mesi che io che avevo la possibilità di uscire per ovviamente per motivi di lavoro incrociavo solo visi preoccupati adesso si rivede le persone che sorridono questa è una cosa che fa bene per tutto speriamo di vederli anche senza mascherina esatto perché questi sorrisi sono un po' nascosti adesso se vogliono stare senza mascherina e sorridere devono stare a distanza certo rispettiamo le distanze in quel modo con questo messaggio adesso prendiamo un altro argomento forse l'ultimo perché è molto importante riguarda gli eventi riguarda tutta la stagione estiva le chiedono sindaco come intende rendere di nuovo protagonista l'estate senegalese nel post covid sappiamo che purtroppo diversi eventi sono stati annullati ad esempio il summer jambory ma vedete noi siamo quelli che su scala regionale hanno giocato sempre i grandi numeri le grandi presenze dal X Master al Caterraduno dal summer jambory al festival del giallo capite che poi questi numeri qui sono un po' complicati perché ahimè con le persone viaggia anche il covid quindi diventa complicato pensare di fare il summer senza ballare quindi la città e le attività ce ne sono tante abbiamo chiesto alle nostre associazioni culturali di dedicarsi alla città ne abbiamo tante di grandissimo valore nazionale internazionale quindi faremo molte cose ridotte in spazi ben individuati sicure in una città accogliente perché questo il covid evidenzia ecco quell'immagine noi abbiamo tanti luoghi molto belli una città ben tenuta ci permette di fare cose anche se non ci sono grandissimi numeri non abbiamo i contenitori del divertimento come magari uno può scegliere noi abbiamo deciso che le nostre attività si svolgessero nella città e nel nostro lungomare sono un po' più rarefatte ma forse anche più ammirabili ci hanno chiesto ad esempio per la fiera campionaria per il Caterraduno chiedono se questi eventi in qualche modo potranno essere organizzati oppure si stiamo sul Cater stiamo ragionando con Rai per fare qualcosa non come sempre ma con una modalità per non perdere esatto per la festa della Repubblica invece è stata annullata nel vostro caso oppure si farà anche in formale di lotta abbiamo un po' di iniziative con la Scuola di Pace ovviamente sempre lì a formato ridotto io non sarò quest'anno la parata a Roma perché è stata annullata sarò a rappresentare la mia città e non solo ad Ancona nella iniziativa che il sindaco e il prefetto hanno messo in campo che cosa farà in questi ultimi mesi da sindaco state lavorando appunto su diversi progetti ancora ma su che cosa si concentrerà tante cose tante cose abbiamo tanti il covid ci ha fermato dei cantieri importanti penso all'appalto della gestione a calore dove ci sono tanti poi investimenti quello degli impianti sportivi penso agli orti del vescovo che posso almeno vedere il cantiere partire ci sono tante il ponte che dicevamo prima del corso ci sono tante ancora cose da fare sono contento di lavorare fino all'ultimo minuto come sempre fatto dovevo finire oggi e invece finirò il forse il 27 di settembre allora le chiedono intanto se si può giocare nei campi da tennis al mare con gli amici per chi ha lasciato per chi ha lasciato i campi oggi si può rigiocare anche a beach tennis a coppia quindi il beach tennis è stato è stato riautorizzato non il beach volley il fiume Misa invece non è più stata fatta manutenzione dopo l'alluvione in quel caso la manutenzione è stata fatta il ponte e l'escavo erano già appaltati adesso dobbiamo ripartire a settembre con l'escavo del fiume in un tratto molto importante l'ultimo tratto terminale ce l'ha già la ditta ferma solo per i 90 giorni che sono stati determinati dal covid poi la stagione estiva non si può scavare il fiume per non inquinare il mare ovviamente certo parlavamo prima di questi ultimi mesi su che cosa farà per quanto riguarda appunto Senigaglia però lei sarà impegnato come dicevamo all'inizio di questa diretta anche sulle regionali e quindi partirà a breve anche nel suo caso la campagna elettorale eh sì state lavorando anche proprio su questo giusto? sì sul programma ma vedete le domande vanno in quella direzione ti riconoscono per quello che sei per quello che hai fatto quindi è tranquillo da questo punto di vista sì dopo la campagna elettorale tira fuori sempre argomenti che qualche volta non non afferiscono alla necessità dei cittadini e quindi andremo a parlare di cose che non attengono a noi ma che riguardano magari Roma guardano il governo e poi ricadranno qui e questa è la cosa peggiore bisognerebbe guardare al tema alle necessità della nostra regione come questa regione può essere governata al meglio da chi ha capacità conoscenza e competenza e insieme a un grande tessuto quello sociale quello economico quello del volontariato quello del mondo dei giovani come si può fare al meglio lei ha sempre creduto nei giovani sbaglio sì lo stavo dicendo qualche ora fa basta che non gli diciamo più voi siete il nostro futuro perché quello è scontato e noi ci dobbiamo appoggiare tanto perché anche in questa fase hanno dimostrato di essere incredibili vedere ragazzi che non hanno non hanno toccato un pavimento che non fosse quello di casa non sono mai usciti 90 giorni chiusi e sì dobbiamo spendere tante parole per loro l'hanno fatto cercando di far di fare di lavorare per la scuola di di tenere contatti tra loro hanno bisogno di speranza di prospettiva questo sì e io chiedo un proposito di giovani se riapriranno le discoteche io penso che sarà tutto possibile ma tutto non come prima quindi sarà tutto più rarefatto quindi dopo il gestore dovrà valutare se conviene tenere aperto o meno perché se i numeri non sono quelli che consentono e non ci sono aiuti diventa molto complicato però diceva sono stati bravi in questo periodo anche se qualche assembramento Senegalli è stato segnalato io confido io per esempio su questa questione distanza mascherina molti mica hanno capito che se hanno la mascherina non è sufficiente cioè e quindi molti sono con la mascherina e si appiccicano perché dicono tanto la mascherina invece no vale sempre il metro quindi il metro di distanza prima di tutto e quindi dobbiamo lavorare sono stati molto bravi e confido molto in loro chiedo sempre di aiutarci perché noi l'errore ne abbiamo fatti tanti e non dobbiamo puntare il dito su loro perché sono chiamati anche sbagliati è importante una buona informazione in questo caso esatto esatto ogni occasione è importante anche per questa cosa Sindaco io la ringrazio per essere stato nostro ospite ci rivediamo nei prossimi mesi anche perché appunto dicevamo della campagna regionale per cui aspettiamo ormai sappiamo che ufficialmente è candidato governatore della regione Marche quindi aspettiamo gli sviluppi va bene molto molto volentieri l'ultima volta che ci siamo detti così sono passati tre mesi e non ci siamo visti più è successo il che mondo quindi speriamo ecco invece speriamo che veramente che vada tutto bene e che possiamo uscire anche da questo tema che abbiamo affrontato all'inizio che veramente che questo virus ci stia abbandonando questo è un vero tema quello che aspettiamo non abbiamo grandi conoscenze di come si comporterà stiamo facendo analisi stocastiche ma non lo sappiamo se farà come la spagnola o come l'asiatica oppure fa come l'influenza che quando arriva l'estate sparisce speriamo questo quello sì e anche di superare in questo caso una grave crisi economica perché qui se non riparte l'Italia intera e il mondo c'è davvero tanta gente in difficoltà quindi dobbiamo ripartire lo possiamo fare e dobbiamo essere comunità sempre perché non è solo l'urlo in piazza che ci salva dobbiamo trovare le soluzioni grazie al sindaco di Senegalia Maurizio Mangialardi grazie anche a tutti voi per averci seguito sindaco a presto ci vediamo nei prossimi mesi grazie davvero buona serata a lei buona serata a tutti i nostri telespettatori arrivederci a presto Autore dei sorrisi